La politica deve fare pace con se stessa e capire che la parità di genere non va concessa, ma deve essere strutturalmente garantita. Decise le parole pronunciate da Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità, durante un incontro tenutosi al Conservatorio di Mantova dal nome Donne, Politica, Lavoro e Vita, dalla Costituzione al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, un cantiere ancora aperto. La conferenza, organizzata dal Comitato Mantovano per il Centenario della Nascita di Nel Dejotti, ha visto la ministra conversare con la presidente della Fondazione Nel Dejotti, Livia Turco, e con Daniela Ferrari, presidente dell'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea. Non privo di simpatici aneddoti, l'incontro si è aperto con l'intervento di Maria Zuccati, prima assessora provinciale donna nel 1957. Durante la sua lunga carriera ha personalmente conosciuto Nel Dejotti. L'incontro è proseguito con momenti di confronto su diversi temi, tra cui le donne nella politica, il mondo del lavoro, la legge di bilancio e i centri antiviolenza.